è presa fame non ha mangiato nulla? no, non mangiavo nulla, sto malvoto e ho portato l'automobile e mi via noia sto malvoto, non lo so ragazzi ma se si andasse a fare una merenda oppure una bella girata e poi una volta che si è fatto merenda e si fa anche l'aperitivo che ne dite? ci state? l'unica cosa se qualcuno c'ha da prestarmi dei quattrini perché non c'ho una lira e se si può prendere la tua l'automobile perché la mia c'è una nota sgonfia che sono senza assicurazione mi ha piatto poi tanto voi lo sapete ragazzi che gli rendo me ne rendo ve l'ho sempre resi tutti sicchi ma poi ora c'ho da pagare anche le rate dell'automobile ci ho preso la BMW nuova mi costo un capitale non so come fare a pagare perché c'ho anche buona l'assicurazione e non lo so se qualcuno mi può fare il piacere di pagare almeno mezza la fa un dio tuta almeno mezza almeno mezza capito tanto pianta avanti pianta avanti si anche il bacino su gli andacchi sono imbombato oh ioni guarda me ne dispiace un monte o se si andesse sul montamiata si andiamo ai cipi padre del nipote della maria della pupilla la presente sul montamiata lì c'è il tranquillo non c'hanno le macchinette per giocare si sta il fresco a fare un aperitivo si mangia qualche cosina ma poi c'è ganga c'è piano di fiaus ci si diverte c'è giovani capito c'è giovani ammazzi la presente in due le aperitivi colazione per i bambini tra le scuole proprio vicino al municipio stanno dove c'è la piazza la presente via le Gramsci 151 farà anche la pizza a sport no io non lo so guarda e allora che s'ha a fare vai a metti in moto via Gramsci 151 a presente giardinetti pubblici davanti a vigili da Stefano vai a là vai si va a fare l'aperitivo cippe barri in via le Gramsci 151 sui monti ammiata coso pian castagnaio in provincia di Siena 0577 78 52 15 pizza e taglio da sport e a domicilio colazioni dorci e salate aperitivi e merendie vi si aspetta i cippe barri da Stefano